Uova contaminate anche in provincia di Salerno, bloccate prima che potessero finire sul mercato, sequestrate dai carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione e sanità. Le uova con finopril sono state individuate ad Atena Lucano ed erano imballate all'interno di un deposito all'ingrosso. Ad intervenire in particolare i medici veterinari dell'ASA di Salerno, le uova sarebbero giunte nel piccolo centro a sud di Salerno da Santa Anastasia, provincia di Napoli, dove già era stato individuato nei giorni scorsi un altro deposito con uova contaminate. L'allarme finopril sta causando una sorta di psicosi generale, tanto che il consumo di uova in questi ultimi giorni è sensibilmente diminuito anche nel nostro territorio, seppure gli esperti continuano a dire che l'allarme è sotto controllo. Il finopril è un insetticida usato come antipulci, un veleno a lenta attività d'azione. In pratica l'insetto avvelenato non muore subito, ma quando torna nella sua tana, così da infettare anche altri insetti presenti. Il finopril secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito moderatamente pericoloso, anche perché il suo utilizzo in agricoltura, ma anche come medicinale per cani e gatti, rientra nella normalità ed è efficace per contrastare pulci, acari e zecche. Il suo uso è però vietato sugli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Le uova prodotte in Italia però non dovrebbero rientrare nella casistica di quelle pericolose, fin qui infatti quelle contaminate erano giunte a quanto pare dall'estero. I controlli comunque sono stati intensificati, così come in Campania e in provincia di Salerno. Tre i casi per ora accertati nella nostra regione, a Benevento, Sant'Anastasia e ad Atena, Lucana. Secondo i controlli effettuati, su 35 analisi di campioni di uova, 33 sono risultati non contaminati. Secondo gli esperti, la situazione dunque è sotto controllo. Il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Walter Ricciardi, ha confermato che le analisi prodotte non hanno evidenziato possibili rischi alla salute delle persone. Intanto la Coldiretti, per difendere i produttori, ha annunciato che farà porre bolline sulle scatole di uova con su scritto Finopril Free.